E vlasnova a tutti, sto per uscire di casa e benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi finalmente sono qui. Oggi è il quindicesimo giorno che vado a liceo, ma devo dire che man mano che passano i giorni a me sta piacendo questa scuola e diciamo che non è male. Comunque come state spero che voi siate bene, dovete sapere che anche sto bene, comunque se mi chiedete come sto, anche io sto bene, ma fa freddo. E niente, ci vediamo dopo. Comunque ragazzi e ragazze siamo arrivati al tram 9, scusate se non ho potuto fare la ripresa sull'autobus perché poi alla fine c'era un sacco di persone, c'era un sacco di persone e quindi non ho potuto vloggare un po' di parole. E adesso... Stiamo aspettando che partano. Ecco, tantissime persone stanno già venendo, quindi niente raga. Ci vediamo dopo. Sono arrivata a casa, ragazzi, e finalmente sono sull'ascensore. Ragazzi, io non so come dirvi che sono molto più felici rispetto ai primi giorni perché i risultati in inglese sono bellissimi, beh, 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 perché ho spoilerato a mio padre, però, vabbè, comunque non lo sa che sono molto... Sto per fare una sorpresa. Surprise! Entriamo in casa? Oh, aspetta che la sua reazione lo filmiamo. Ragazzi, non vedo l'ora. E anche questa volta proprio spacco. Ecco, è andata benissimo. Allora, aspetta. Papà! Stai per far... Sto per farti verere, 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 vedere. Una cosa che non te la scriverai. Vediamo il testo in inglese. Poi sono ancora fuori di me. Nel senso, sono fuori di me stessa. Cioè, allora, adesso andiamo a farlo vedere. Adesso prendiamo il testo. Ovviamente il testo va restituito. Questo. Allora, non so dove sia, ma... I can't remember anything. Allora... L'avevo messo in una bustina. Ahà, sì! No, ho sbagliato. Sfortunata. Non mi dire che ho perso la roba. Perché non l'ho messo davanti? No, eccolo, no, eccolo, 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 eccolo. Wow! Pam, 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 pam! Papate, devo dire una cosa molto importante! Sono troppo casata, ragazze. Adesso andiamo a filmare la sua reaction. Adesso lo lasciamo sul... Scusate se questo vlog iscrivito andro di più. Daddy! Daddy! Close your eyes! Ma è... Ma è... Basta, voglio leggere, no, Adi? Voglio... Scusate, ma sto dicendo non aprire gli occhi. No, Daddy! No, 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 Daddy, no. Voglio un po' boxa. In chose, mazana... Bye-bye-bye. S hidratitz mio. Un kidd zuro, un grade. Dio! Maní viacositai. No! Baguio, Ty. Sistem体. Prima师. S se... S se... S se... S se... S se... S se... Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Allora ragazzi spero che questo vlog vi sia piaciuto adesso vado a mettermi comodo perché se no sembro una impaccuccata Guardate il mio outfit La mia borsa non l'ho ancora posata E quindi spero che questo vi vi sia piaciuto se così Per favore mettete like, iscrivetevi al canale Cliccate la campanella e attivatela per essere sempre aggiornati I miei prossimi video che caricherò e io vi mando Un grossissimo bacio e vado a mangiare Prima di mangiare vado a Cambiarmi e poi se state Buon appetito a tutti e noi ci vediamo in prossimo video Ciao e alla prossima